Una stagione da dimenticare, almeno fino a questo momento. Tempi duri per le esercenti del centro storico che come ogni anno si lanciano nella sfida dei saldi. Ma il consuntivo del primo mese della stagione invernale, delicata agli sconti, è molto desolante. A confermarlo è responsabile della CNA Sulmona, Franco Ruggeri. In centro storico il bilancio è negativo, interviene Ruggeri. C'è stata complessivamente una scarsa fruizione, nonostante la stagione abbastanza favorevole e senza intemperie. Secondo Ruggeri i risparmi dei contribuenti sono in crescita, un dato che incide sull'andamento dei saldi. Commercianti e amanti della città sperano però in un buon ranch finale. Sicuramente per quanto riguarda i saldi, io che sono di Sulmona preferisco far girare l'economia nella nostra amata Sulmona. Beh sì, dati i duri tempi di crisi bisogna anche approfittarne per fare qualche acquisto. sempre cercando di farli nei negozi della propria città, del centro storico, che sono quelli che hanno più bisogno di tutti. No, non mi interessano, mi interessano assolutamente. È capitato in un momento che non ho bisogno di... e poi io sono un pochettino pretenzioso per cui è difficile. I saldi sono in linea con i target degli anni precedenti. Ci manca ancora un mese e vediamo se possano migliorare e comunque rispecchiare le aspettative sia nostre che dei clienti.